Microwave Technology presenta la soluzione completa nella lotta contro i tatti una eccezionale camera microonde con porte di grande apertura e di notevoli dimensioni interne con modernissima elettronica di comando e generatore di microonde estremamente versatili Avete il problema dei tarli? Chiamate l'antitarlo a domicilio La camera a microonde completamente smontata in 16 pannelli e tutti i suoi accessori di funzionamento sono facilmente trasportabili con un piccolo furgone Ed i tecnici in pochi minuti saranno pronti a risolvere ogni vostro problema Inizia il montaggio della camera microonde si monta la base di appoggio una serie di pannelli super leggeri che si vanno ad incastrare l'uno dentro l'altro facilmente e velocemente ed in meno di 15 minuti la camera a microonde sarà pronta per disintestare completamente i vostri mobili e di vostri arredi I generatori di microonde si infissano velocemente alle pareti della camera con i ganci rapidi Il collegamento elettrico è altrettanto rapido perché tutte le connessioni sono ad innesta baionetta Il tutto è realizzato per la massima semplicità di utilizzo e la massima velocità di esecuzione Ed ora si introducono i mobili e si chiudono le porte Si impostano tutti i parametri di funzionamento nel semplicissimo pannello touchscreen e si avvia il ciclo microonde Le numerose finestrelle laterali permettono di vedere e controllare in tutta sicurezza i pezzi durante il trattamento termico La camera microonde è certificata a zero emissioni per la massima sicurezza delle persone e dell'ambiente Al termine del ciclo di lavoro impostato si aprono le porte e si controlla il lavoro fatto utilizzando la termocamera ad infrarossi per avere la certezza di raggiungere la giusta temperatura di trattamento E per le travi come si fa? Facilissimo si utilizza sempre la stessa attrezzatura I generatori di microonde facilmente smontabili si fissono al sollevatore elettrico in pochi secondi Così come tutti gli accessori in trattamento e di cavi elettrici di collegamento si fissano sempre al medesimo quadro di comando della camera microonde Ed in pochi minuti si è pronti per il trattamento antitario delle travi Si impostano tutti i parametri di funzionamento nel semplicissimo pannello touchscreen e si avvia il ciclo a microonde Si lavora nella massima sicurezza delle persone e dell'ambiente poiché le emissioni sono inferiori a quelle di un normale telefono cellulare Ed in pochi minuti finito il lavoro si controlla con la termocamera infrarossi la perfetta esecuzione del trattamento E per il parquet come si fa? Semplicissimo Si usa sempre la stessa attrezzatura Il quadro elettrico di comando leggerissimo e facilmente trasportabile si posiziona nell'ambiente da trattare E così anche i generatori di microonde fino a tre affiancati per coprire la più ampia superficie di trattamento La connessione elettrica semplice e rapida sia a 220 volt o indifferentemente a 400 volt industriale è rapidissima Si impostano tutti i parametri di funzionamento nel semplicissimo pannello touchscreen e si avvia il ciclo a microonde nella massima sicurezza delle persone e dell'ambiente E dopo pochi minuti finito il lavoro si controlla con la termocamera infrarossi la perfetta esecuzione del trattamento Microwave Technology vi ha presentato la soluzione completa e definitiva nella lotta contro i tardi Microwave Technology progetta e costruisce soluzioni a microonde da oltre 20 anni ed è in grado di fornire soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze di ogni cliente Grazie per l'attenzione